Piazza Dante, Teramo, la famosa delibera dell'assegnazione del piano raso dopo una lunga convenzione con i proprietari di questo bellissimo parcheggio sopra e sotto. Vi ricordate anche la straordinaria inaugurazione delle colonne sotto all'epoca dell'ex sindaco Gianni Chiodi. E qui ieri sono comparsi e apparsi improvvisamente quelli che sono stati già definiti i vasi da giorno, non i vasi da notte che sono altro. E oltre ai vasi da giorno che in realtà sono delle fioriere, vediamo che alcune già sono rotte sicuramente per il fatto che sono state trasportate in dei camion e poi quando, ecco qua, guardate la spaccatura, vabbè sono nuove, nuove, nuovi. E il codice della strada prevede la segnalazione delle fioriere perché questi vasi di giorno, di notte, diventano pericolosi perché non visibili, non ci sono catari infrancenti. Avrebbero già dovuto metterle ieri, diciamo che gli concediamo ancora una settimana al buon assessore Maurizio Verna. Sono provvisori, sono provvisori perché poi qui verranno segnalati ovviamente degli stalli, ci saranno delle colonnine elettriche per le auto elettriche, le bici elettriche, i motori elettrici. Tutto ciò non è stato condiviso con nessuno, soprattutto con i commercianti. Andiamo a ascoltare quella che può essere la loro vera opinione. Allora, vasi di giorno o vasi di notte? Bella domanda. I vasi lasciano il tempo che trovano in questo caso perché sono molto piccoli, leggeri, non hanno una gran utilità in questo caso perché secondo me anche una folata di vento, probabilmente di quelli che abbiamo avuto che hanno scardinato i tetti potrebbero buttarli giù. Però bene, bene riqualificare davanti al prestigioso liceo delfico ma farlo in maniera diversa. E' importante il parcheggio? Il parcheggio è importantissimo, assolutamente importantissimo, vitale.